Un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio BM. Un saluto anche a chi ci sta guardando attraverso la nostra pagina di Facebook, attraverso il nostro canale di YouTube. Dai nostri studi via Cavoltre a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura di oggi del quotidiano Il Gazzettino di Belluno. Come sempre però prima di iniziare leggiamo insieme la frase del giorno per quanto riguarda la giornata di oggi, ovvero di martedì 3 dicembre 2019. A volte lasciare andare qualcosa a qualcuno è l'unica soluzione. E con questa citazione adentriamoci nella lettura di oggi del Gazzettino. Diamo subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. Purtroppo questa edizione si apre con un fatto di cronaca giudiziaria. Pesta la matrigna, 71enne, arrestata. Irruzione della polizia in un'abitazione a Faverga di Belluno. La donna è incastrata dalle telecamere posizionate dagli agenti. L'indagine era partita da tempo dopo le denunce dei vicini. Insulti e schiaffi anche poco prima del blitz della mobile. L'approfondimento lo troveremo a pagina 5 a firma di Bonetti. La foto invece di prima pagina è dedicata all'allarme, occupazione e sciopero dei metalmeccanici. Riscano al posto 700 lavoratori. Martedì 10 dicembre organizzata una manifestazione a Mel. Altri richiami dalla prima pagina. Ruba all'anziana al ladro in azione a volto scoperto. Il colpo in un'abitazione di Villa Bruna a Feltre. Via poi con denaro e gioielli. Imprenditori a confronto sul futuro della provincia. Eccellenze imprese a confronto. Ieri nel Symposium 2019 organizzato dall'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Belluno. Moderato dal direttore del Gazzettino Roberto Papetti. E ancora la classifica verde. Pochi rifiuti San Gregorio è in vetta. Il capoluogo finisce al quarto posto. Sovramonte da Povaia siamo stati dimenticati. Questo è lo sfogo di due cittadini sovramontini che abitano a Gorna e a Moline. Cortina, rivoluzione dei parcheggi è polemica. Iniziamo quindi a leggere questa edizione del Gazzettino di Belluno. Un'edizione che si apre con un convegno dedicato agli imprenditori bellunesi. Questo è il titolo. Siamo pronti a vivere il nostro momento magico. Gli eventi sono nel nostro DNA. Ogni euro investito, quasi tre ritornano. Olimpiadi, grande opportunità. Diamo uno sguardo a quest'articolo a firma di Andrea Zambenedetti. Per questa provincia è un momento magico, spiegano gli imprenditori bellunesi radunati sul palco di Symposium 2019 organizzato dall'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili. Le incognite continuano però a pesare, prima su tutto il nodo infrastrutturale. Alla leader degli industriali, Lorraine Bertone, bastano una manciata di parole per mettere a fuoco i termini della questione. Quello che faremo nei prossimi sei anni, quelli che mancano alle Olimpiadi, sarà determinante per l'immagine che rimarrà di questo territorio, per quello che lasceremo alle generazioni future. Darsi da fare quindi, nel frattempo c'è da rimboccarsi le mani che Belluno ha già cominciato a farlo. In questo contesto non stupisce che anche aziende a partecipazione mista pubblico-privato mettano a segno performance competitivi con i grandi brand. È per esempio il caso di Dolomiti Bus, 34esima azienda per indice di produttività della provincia, che oltre a guardare i bilanci mira lo sviluppo del territorio. Dopo gli autobus con le immagini delle meraviglie e delle dolomiti, ha spiegato Andrea Biasotto, presidente di Dolomiti Bus, Abbiamo rinnovato i parcomezzi, oggi due su tre di quelli che circolano sono a basso impanto ambientale. Numeri, un dipendente belunese guadagna 6.000 euro in più, la media nazionale di 31.000 euro all'anno, qui pesano spopolamento e necessità di specializzati. E adesso cambiamo argomento, ma un'altra classifica che riguarda il territorio belunese, in questo caso il comune di San Gregorio nelle Alpi, questo è il titolo del gazzettino, Rifiuti, il capologo sfiora il podio, San Gregorio in vetta, Belluno, quinta città per l'attenzione nell'immondizia, Feltre arriva invece quarta tra i comuni che hanno meno di 30.000 abitanti. Tra i 5.000 e i 15.000, Santa Giustina 24esimo, Sedico 25esimo e Ponte nelle Alpi 30esimo, sono invece le posizioni occupate dai comuni belunesi nella classifica per i comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, ma in quelli piccoli sotto i 5.000 residenti che la provincia di Belluno torna a sorridere. E a tal proposito, oltre al già citato record di San Gregorio nelle Alpi, c'è da notare il quinto posto di Sedico, il decimo di Livina a Longo del Col di Lanna, il quindicesimo di Selva di Cadore, il ventesimo di Rocca, tallonato da Querovas e Cesio Maggiore. Questa è la classifica ovviamente a livello veneto, quindi davvero una bella soddisfazione in questo caso per il comune di San Gregorio nelle Alpi, ma anche per gli altri comuni del territorio bellunese. E adesso parliamo di industria, il declino industriale a rischio 700 posti, otto ore di sciopero dei metalmeccanici. Martedì 10 il comparto provinciale si fermerà, Raduno e Corteo d'Amel, alla chiusura della fabbrica Ex-ACC si associano circa 400 esuberi di Safilo. Diamo uno sguardo a questo articolo a firma di Lauredana Marsiglia. Il mondo del lavoro traballa anche provincia, vittima di una svendita selvaggia agli investitori esteri, che oggi presenta un conto salato. E il 2020 non promette nulla di buono. La crisi Wangbao, dove la proprietà cinese ha già annunciato di voler chiudere lo stabilimento di Mel, mandando a casa 290 lavoratori, si aggiunge in queste ore anche il caso Safilo, con circa 400 esuberi legati alla perdita di Dior, passato alla dirempettaia Telios. Un colpo mortale per la provincia di Belluno, che in queste ore ha ricompattato, come non mai, le forze sindacali, chiamando a raccolta le istituzioni, le associazioni di categoria e i cittadini. Serve un gioco di squadra per evitare quello che è stato definito dai sindacati il declino industriale della provincia. Le aspettative di CGL Cislewil. L'unica soluzione per la Wangbao è il decreto di commissariamento. Faremo pressioni sulla politica affinché si faccia in fretta. Intanto Castro sente la PVC. Il caso più urgente è la Wangbao CC di Mel. La proprietà cinese non ha fatto alcun passo indietro rispetto alla volontà di chiudere per febbraio. Esaurito il budget di 68 milioni di dollari utilizzati per le spese correnti, non per investimenti come invece era previsto nel piano di rilancio segrato nel 2014, la società pubblica della municipalità di Guangzhou è pronta a fare fagotto lasciando sull'astrico 290 dipendenti. Comuni, sindaci più ricchi, speriamo arrivino i giovani, siamo arrivati a pagina 4 di questa edizione del Gazzettino di Belluno. La Commissione Finanze della Camera ha alzato la paga per i primi cittadini che amministra un municipio con meno di 1.000 abitanti, prende come uno come con 3.000. De Carlo, sindaco del Comune di Calalzo, ha riconosciuto il nostro impegno continuo. Deone di Rivamonte, in montagna c'è sempre da lavorare. E ancora dalle feste, Gosaldo, speriamo arrivino le giovani leve, frena da Colle Santa Lucia, spesso impegnati come volontari. Bar La Miniera chiude, resta solo la ricevitoria. Un'altra notizia difficile per il commercio del capologo bellunese, il titolare Barel ora punta tutto sul caffè Goppion. Massimo Barel ha lasciato il bancone del Bar La Miniera e il locale di Piazza Santo Stefano da sabato ha chiuso. Non verranno più serviti caffè né aperitivi, non ci saranno brioche né pranzi veloci. Gli affezionati potranno continuare a fare riferimento al piccolo esercizio solo per le attività di ricevitoria che continuerà a funzionare con gli orari di sempre. Dalla politica del capoluogo, politica urbanistica comunale, gamba, settore, paralizzato. E adesso la notizia che ha aperto questa edizione del Gazzettino di Belluno, un fatto di cronaca, botta all'anziana, figliastra arrestata. Il blitz della polizia è scattato venerdì in una casa a Faverga. Nel video avevano documentato maltrattamenti a una 78enne. Dopo la denuncia dei vicini si era attivata la squadra mobile che in flagranza ha portato in scena la badante violenta 71enne. Diamo uno sguardo a questo articolo a firma di Olivia Bonetti. Schiaffi al volto, al dorso, tirate di capelli, colpi alla schiena. Doveva prendersi cura dell'anziana matrigna con demenza senile ma era diventata la sua guzzina. Alcune delle drammatiche giornate che la vittima, una 78enne bellunese, viveva nella sua casa di via Faverga sono state documentate dalle intercettazioni e i video ambientali avviati dagli agenti della squadra mobile di Belluno dal 19 novembre scorso. È stato penoso per gli agenti assistere a quell'inferno. Sono dovuti intervenire subito. Dopo una decina di giorni hanno bloccato la figliastra badante stringendole le manette ai polsi. La donna A.D.R. 71enne è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti aggravati in famiglia ed è stata condotta nei carceri di Venezia della Giudecca. E per chi si sta guardando su Facebook o YouTube un'immagine delle drammatiche giornate vissute dall'anziana bellunese, una 78enne sottoposta a continue vessazioni, arrestata dalla polizia della mobile e la figliastra 71enne che l'accudiva. Siamo a pagina 6. Feltre ruba l'85enne. Sono un amico. È accaduto domenica in pieno pomeriggio in una casa di Villa Bruna dove è stata colpita anche un'altra famiglia. È l'ultima frontiera del furto in abitazione in cui il ladro agisce direttamente di fronte agli occhi del proprietario. È entrato come se fosse di casa tanto che l'anziana proprietaria che era stesa sul divano a guardare la televisione ha pensato fosse il nipote. Ma in realtà era un ladro spavaldo che si è comportato con familiarità. Una volta all'interno dell'abitazione si è appropriato tranquillamente del portafoglio della donna uscendo dalla porta principale. È l'ultima frontiera del furto. Un colpo messo a segno in pieno giorno nel fine settimana ai danni di una 85enne che abita a Villa Bruna. Mondo della scuola Feltrino. Siamo all'Itinegrelli. Ragazzi, studenti europei a Bruxelles. Gli alunni delle quarte informatica meccanica vincitore di un premio in questi giorni il viaggio per vedere le istituzioni dell'Unione Europea. E adesso Sovramonte, Postvaia. Qui a Giorna e Molina nessun cantiere. Sfogo di due residenti che si sentono dimenticati da tutti. Noi dimenticati nel dopovaia. Lo sfogo è di due cittadini sovramontini che abitano a Gorna, Molina e Ezio dalla Corte. Pensionato è nel Sava. E Teodoro Bey, geometra di Veneto Strade abitano a Gorna in via Molina. Il pianoro sopra l'abitato di Molina era un tempo una borgata vivace ma oggi, dopo una serie di gallerie è di fatto tagliata fuori dalla regionale. 50 conta pochi abitanti ma ha comunque un ruolo strategico nel comune. Torniamo a Feltre. Avvocato aggredito. Io ti faccio sparire. L'inseguimento è avvenuto domenica sera vicino a Porta Imperiale. Illegale difende la moglie dell'uomo che ora però perseguita anche lui. Lamoun, strada e scuole sicure, opera per 150.000 euro. I due affidati prevedono interventi alla Faccene e via Borda. Cesio Maggiore incendiò la porta della madre e quattro mesi al figlio Stolker. E adesso siamo arrivati a pagina 8. Iniziamo con le notizie riferite a Sedico e a Borgo Valbelluna. La prima riguarda appunto Sedico. Il sindaco mi ha vietato di parlare e sono uscito. La rabbia del consigliere Alessandro Bianchette al momento di votare il bilancio. Borgo Valbelluna, pista di atletica verso il rilancio, il sì del consiglio, costo dell'intervento 650.000 euro concessi dal credito sportivo. Da Borgo Valbelluna, domenica ecologica, ambientalisti raccolgono 37 sacchi di spazzatura. Il gruppo di lavoro coordinato dal gruppo salvataggio Anfibi. Passiamo adesso a Ponte nelle Alpi. Ponte Santa Caterina libero dopo 98 giorni, doppio senso. Alle 17.32 i tecnici dell'ANAS hanno tolto le transene lungo l'Alemagna. Il sindaco Paolo Vendramini abbiamo messo in sicurezza il simbolo del paese. Diamo uno sguardo a questo articolo a firma di Giovanni Santin. Erano le 17.32 del tardo pomeriggio di ieri quando dopo 98 giorni di chiusura e di semi-chiusura il ponte di Santa Caterina è tornato nu completamente percorribile in entrambi i sensi di marcia. L'orario era fissato per le 17.00 nonostante gli operai responsabili del cantiere dessero per certo il rispetto dei tempi. Chi era nelle vicinanze del ponte aveva capito che il via libera non sarebbe stato rispettato. A ritardare l'apertura è stata la smobilitazione del cantiere nella parte nord del ponte. Qui erano stati accumulati materiali diversi che sono stati caricati su un camion. Comunque la notizia è che da oggi, anzi da ieri pomeriggio, il ponte è aperto per entrambi i sensi di marcia. Sedico, un convegno per ricordare Monsignor Fiori appuntamento questa sera alle 18 al Palazzo Servizi. Ancora da Ponte nelle Alpi scuola aperta e assemblee sarà un mese molto intenso. Passiamo alla Gordino Falcadine, avvento artificiale sulla pista Pietroscola cannone all'opera da ieri sera grazie all'arrivo delle temperature fredde la speranza è avere un anello di 1200 metri dalla giornata di sabato. Da Alleghe, novembre record per le nevicate sui Dolomiti da 12 anni mancava un mese così primato a Col e Baldi abbiamo ben 294 centimetri di neve. Altre notizie fresh dalla Gordino Agordo, protezione civile 70 nuovi volontari Falcadine, gli eventi di Natale al via al sabato dalle emozioni sotto l'albero a film, falò e festa con San Nicolò dal centro del paese fino a Caviola. Cortina, parcheggio con abbonamento stesso prezzo ma meno posti brutta sorpresa ieri per i lavoratori corposa sforbiciata alle aree di sosta scoppia la rabbia degli automobilisti ho pagato 180 euro e non trovo nulla. E sempre da Cortina pronta la viabilità fashion da sabato scattano i divieti strade interdette centro off limits per il weekend. Ancora a Cortina due notizie i primi giri per il nuovo impianto di Col Drusche regole e parziali rinnovi per l'Ambrizzola e il Lareto. Siamo a Pieve di Cadore volontari una razza in estinzione l'amministrazione ha ricevuto associazioni e singoli all'ex caffè Tiziano per ringraziarli del loro impegno l'Auser servono rinforzi in un Cadore sempre più vecchio invocata anche la fusione tra sudalizi per contenere il problema. Borca di Cadore svaluto ferro guida l'Unione e pensa a riordino dell'ente e comedico superiore ambientalisti contro il collegamento scempio approvato democraticamente mountain awareness con 45 milioni se potrebbe davvero sviluppare l'area. Ancora dal Comelico un'altra pagina di storia sui tesori del Comelico la bibliografia sul Comelico si arricchisce di un nuovo libro si tratta del volumetto La Chiesa della Madonna della Salute e San Leonardo Abate in casa Mazzagno scritto da Antonella Guzzon Passiamo adesso alle pagine sportive ovviamente 100% belleonesi incominciamo con il calcio di Serie D ritiro in Brianza l'Union Sonia oggi la partenza per una notte da trascorrere insieme domani i quarti di Coppa Italia contro la Folgore Caratese si infiamma il mercato Costa lasciato libero anche Orchi potrebbe andarsene in attacco c'è attesa soprattutto a Belluno Pallavolo terza divisione ok Cadore Comelico partito il campionato che vede 7 beronesi con 2 trevigiane Agordo e Tricchiana leader under 12 Cassione migliore berunese delle under 13 e il ponte under 14 insegue la Susegana dallo sport alla cultura 64 racconti tra ricette e fornelli sarà presentata sabato l'edizione 2019 del volume dedicato alle storie minime bellunesi nel pop bar di via Zuppani da sempre culla dell'iniziativa teatro un anfitrione moderno al comunale sabato a Belluno la commedia di Plauto rivisitata gli incontri di Libera la rivalità e conflitti la geopolitica sbarca al Giovanni XXIII sabato si parlerà di Medio Oriente corno d'Africa e globalizzazione con Federico Donelli e Alessandro Grossato canti tradizionali al cinema Eden domani la ripresa della rassegna Cime Cortina incanta la mente e proposta da Musicantus e con questa notizia termina l'edizione di oggi di Nicola Belluno come sempre dedicata alla lettura del gazzettino e prima di salutarvi diamo uno sguardo alle previsioni del meteo in Veneto per la giornata di domani la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale è davvero tutto per Edicola Bellun io vi ricordo che ci ritroveremo domani puntuali come sempre al mattino in diretta o perché ci vuole ascoltare in differita e quindi in replica questa sera alle 20 domani mattina all'una ora locale italiana appuntamento invece oggi con una voce delle Dolomiti protagonista il sindaco del comune di Limana stiamo parlando di Milena De Zanette l'appuntamento è alle ore 3 del mattino 11.30 18.23.30 sempre ora locale italiana a tutti voi davvero una buona giornata in compagnia di Radio ABM la web radio dell'associazione Bellunesi nel mondo a tutti i Grazie.